Rieccoci, Primo Sider Palace, consueto appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, l'ospite di questa sera l'avete visto, è scrittore, tocchiamo che collega, mi fa piacere perché ha presentato programmi televisivi importanti, ha scritto molti libri, Alain Elkan, davvero che è un onore per noi avere l'ospite dei nostri studi, abbiamo parlato di molte cose, abbiamo parlato del libro, domani tra l'altro vi ricordo ancora ci sarà la presentazione al bar, all'hotel, perché fra poco diventerà anche hotel al Gran Caffè Pedrocchi a Padova, dell'ultima pubblicazione di Elkan che si chiama Anita, leggetelo perché è davvero un libro molto, andate a prenderlo, è un libro davvero molto curioso e anche un po' ironico come diceva, anche se parla di morte, ma comunque... Parla anche di vita, parla anche di vita, esatto, è da morire, perché poi è una storia anche d'amore, insomma, è una storia di amore, perché Anita è una bellissima donna e un grande amore, un grande amore che è sofferto però... Cosa pensa delle donne, visto che tra poco sarà la festa della donna lei? Che mondo sarebbe senza le donne? Cioè le donne sono fondamentali, no? Sono... E poi sono contento per loro perché adesso in questa nostra epoca hanno ottenuto molte cose, stanno ottenendo molte cose, no? Ancora poche secondo lei oppure hanno già iniziato a fare qualche passaggio? Non esiste un limite, un termine, le donne in questo secolo hanno combattuto e hanno ottenuto moltissime cose, pensi che non votavano le donne, oggi sono ministro, hanno dei posti molto importanti di responsabilità, primi ministri in certi paesi... In certi altri ancora però non è che siano... No, è terribile quello che succede in certi paesi, in certe culture dove le donne... Se ricordiamo la partita di Coppa tra due italiani non permettevano alle donne di andare allo stadio un paio di mesi fa, quindi è ancora... Qualche paese deve ancora cominciare ad avere una cultura di rispetto... Il mondo senza donne sarebbe terribile, perché le donne hanno una sensibilità, intanto sono madri, no? E quindi hanno un ruolo fondamentale, no? Io ho scritto un libro su mia madre, nonna Carla, no? Si capisce che cos'è una nonna, cos'è una mamma... Ho visto un'intervista sulla nonna che mi è piaciuta molto, su quel libro che ha scritto che raccontava, mi corregga se dico dell'inesatezza, però che raccontava, ho scritto un libro sulla mia famiglia, quanto riguarda la mia famiglia, e pensavo che non lo leggesse nessuno e mi ha fermato una persona per la strada, era grosso, in moto mi sembra che la rincorreva e a un certo punto l'ha fermato, lei ha preso anche paura vedendo questo uomo e ha detto beh, se sapevo che era lei, mi portavo dietro il libro e mi facevo fare l'autografo, giusto? E riguardava questo libro, e mentre lo raccontavo ho visto che era molto soddisfatto di quello che lei era successo a riguardo di quel libro lì. Ma sì, perché uno non pensa, non sa chi sono i propri lettori, no? Questo è molto bello, quando scrivi un libro è come mettere un messaggio in una bottiglia, il libro lo scrivi da solo, poi l'editore ti aiuta a pubblicarlo, c'è copertina, eccetera, e poi il libro va, non è più tuo, no? Una cosa molto molto privata diventa pubblica di tutti e quindi così la vita di un libro è una cosa molto affascinante, non sai chi lo riceve, no? Allora pensi che chi legge i tuoi libri magari è uno studente o uno che ti assomiglia o non lo so, una donna di un certo tipo, e invece quando vedi, non so, uno che sembra un teppista con un ciubbotto di cuore, un'enorme motocicletta che ti inchioda davanti, dici oddio adesso questa mamma chissà cosa vuole, no? E se ti dice una cosa così ti stupisci, perché allora vuol dire che c'è una speranza. Cioè se uno così ha letto Nonna Carla e gli dispiace, è bello. Certo, il rapporto con la mamma come è stato? Perché è giusto, perché lo scrittore è di tutti, no? Visto che ha scritto quel libro il rapporto con sua mamma, come è stato? Bellissimo. La mamma, certo, è stato un rapporto intenso, importante, poi lei è una donna che ha sofferto molte vicissitudini, però per me era mia madre, quindi ci litigavo anche, poi facevamo la pace e poi lei è stata una grande nonna per i miei figli, quindi insomma era il centro della casa. La mamma è sempre la mamma, vero? Eh beh sì, poi infatti ha lasciato un grande ruoto, ma con mio fratello cerchiamo di tenere viva la sua casa ancora. E quindi, senta, anche a lei nella sua vita ha avuto più rimorso e più rimpianti. Che differenza c'è? Eh c'è una differenza tra rimorsi e rimpianti, la sa benissimo, c'è una differenza. Rimpianti no. E allora vede qualche rimorso. Perché volevo fare lo scrittore, non volevano che lo facessi, l'ho fatto lo stesso, e bene o male, ancora alla mia età, ho pubblicato dei libri, quindi sì, quello che volevo fare l'ho fatto. E per me è molto importante questo, che si faccia quello che uno... Le ho fatto questa domanda, perché nel prepararmi, che l'avevo ospite, ho visto delle sue interviste che le hanno fatto, e lei diceva praticamente che sarebbe bello che ognuno nella vita facesse quello che vuole fare. È molto importante. Eh ma delle volte, io ho detto, quando viene e la faccio ad un'amica, tutti possono fare quello che vogliono fare. Tanti fanno quelli che sono costretti o costretto a fare. Per vivere, per forza di cose. Sì, però... Non tutti sono fortunati, nel senso... C'è una componente di fortuna. Però senza volermi vantare, anzi, sono gratuito. Gli uomini e le donne non nascono tutti uguali, no? C'è chi ha la fortuna di avere, non so se è un talento o una vocazione, no? Che può essere vocazione, può essere spirituale e uno diventa prete o suora o frate. Certo. Oppure può essere, per esempio, che uno nasce scienziato, musicista o ha un talento per dipingere o per scrivere, no? Quindi se hai questa fortuna che ti viene data, la tua vita è diversa perché uno dovunque nasce, se è scrittore, lo diventa a un certo punto. Il problema non è quello, il problema è se c'è una dittatura che mette una censura, che lei non può più fare questo programma, non si può più dire quello che si pensa. Quindi lei è successo, no? Nella Russia sovietica, in altre dittature, no? Dove non si poteva scrivere, c'era la censura e via dicendo. Questo è molto grave. In molti paesi c'è ancora, evidentemente. Ma c'è ancora, secondo lei, libertà di stampa? Scusate, ho fatto male alla domanda. C'è libertà di stampa? Non c'è ancora. C'è libertà di stampa? Le faccio un esempio. Ma io direi di sì. Allora, io le chiedo, se io scrivo per l'Avenire, non posso parlare male della Chiesa? Se scrivo male per l'Unità, non posso parlare male della Silvisa? Dipende chi è il direttore. Di solito è difficile, però... Perché magari vogliono il contrapunto. Io ho avuto l'impressione di qua. La polemica nello stesso giornalò, un'opinione e un'altra, questo non lo so. Però esistono dei giornali pluralisti. Prima che venga meno la libertà di stampa è negli Stati Uniti, per esempio, dove è una cosa molto importante. O in paesi anglosassoni, è molto difficile che venga meno. E speriamo. Perché spegnere le voci è la cosa più brutta. Anche nell'arte, parlavamo di Hitler prima, non so, certi artisti erano condannati, non potevano dipingere certi architetti. Questo è il pericolo. Se invece viviamo in un clima libero, dove c'è libertà di espressione, di creazione, di creatività, di insegnamento, di giornalismo, e allora chi ha una vocazione o un mestiere. Ecco, è una fortuna avere un mestiere. Anche fare il falegname, il meccanico, lo scalatore, non so, il pescatore. Dipende quello che uno fa, dove è nato. Però se non hai una passione che ti conduce, una vocazione, purtroppo la tua vita è diversa. Lo sa che lei prima di iniziare questo avvicinamento, quanto dura? L'ho detto il tempo. Lo sa che io credo sia troppo poco il tempo per parlare tra me e lei, perché man mano diventa piacevole e anche sempre più interessante. E li vediamoci. No, no, ma le dico perché è molto, la distanza non è. Anche per me. Questo che lei vive a Londra non è sicuramente facile, però è davvero piacevole. Senta, lei vive a Londra e quindi mi verrebbe da farle e fare anche molte domande oltre ovviamente alle scritture che lei ha fatto. L'Italia come la vede da Londra? Bella. Gli inglesi amano molto l'Italia. L'Italia è uno dei paesi... Ma lei è italiano? Io penso che l'Italia sia... e gli italiani siano amatissimi nel mondo. Per tante ragioni. Prima di tutto per il loro carattere, no? Così conciliante, amichevole, affettuoso, no? L'Italia è un paese semplice in questo. Poi perché è il più bel paese del mondo, se si può dire, no? Cioè con le più grandi bellezze naturali, artistiche, a tutti i livelli. Ma lei come la vede? Il futuro dell'Italia lo vede bello, radioso? Parliamo paese politico, parliamo... In generale, in generale, politicamente, a livello lavorativo, a livello artistico, di quello che vuole. Come lo vede l'Italia? Come la vede? È necessaria. Io sono un europeista. Penso che l'Europa sia una cosa... la costruzione dell'Europa sia una cosa molto bella, no? Non si dice mai, si critica sempre. Però sono 70 anni che i francesi non fanno la guerra ai tedeschi, che gli italiani non fanno la guerra ai francesi, che gli inglesi non fanno la guerra ai tedeschi. No? Cioè questo è successo fino a 70 anni fa. Non fanno la guerra con le armi, ma la possono fare in altre maniere? No, ma... Con il potere? Però... Secondo lei la fanno... Dicono che la Germania non la fa più con le armi nei confronti dei cugini dell'Europa, però la fare con il potere. E quindi secondo lei è vero o no? Cioè perché la Germania fa la guerra col potere e vuole comandare? Non so se fa la guerra... Ogni paese... Vuole comandare ma non ha l'arena di Verona, per cui la signora Merkel l'opera la viene a sentire alla Scala o all'arena di Verona. Assolutamente vero. Vogliono comandare ma non hanno... A Parigi non hanno il Palazzo Farnese o la Villa Medici, no? I luoghi francesi di Roma. Non hanno il Caravaggio nella chiesa di San Luigi ai francesi a Parigi. Non hanno l'arte. Non so se il Louvre sarebbe un museo così importante senza l'arte italiana. Quindi voglio dire l'Italia è comunque un paese amato, invidiato forse da tutto il mondo per la sua straordinaria ricchezza artistica. Noi diciamo siamo un paese povero, dipende come lo vediamo. Da che punto di vista? Perché non è che Castel del Monte è dappertutto Venezia o il Golfo di Napoli e così via. Lei ha citato le grandi città ma anche i piccoli borghi sono dei gioielli. Ogni 20 chilometri c'è di andare a fermarsi, una chiesa, un sacro monte, un museo, una piazza. Cosa ne piace più dell'Italia? Tutto. Non mi risponda così mi dica, mi piace più Venezia. Sa cosa ne piace? Mi parte partire da Trieste e andare fino a a Palermo e quando sono andato a Palermo tornare indietro. Allora mi dica. E quando sono tornato indietro ricominciare. Io faccio l'avvocato al diavolo. Però quello che un attimino, cioè io le dico se vado all'Inghilterra mi piace Londra, faccio un esempio banale però glielo faccio. L'Italia secondo lei è bella tutta, sono d'accordo con lei Roma, Firenze, Napoli, Venezia. Però c'è un luogo particolare che quando lei lo visita le rimane più a cuore, le rimane a Eccle, le rimane dentro. Oh qui è proprio dove mi piace starci un paio di giorni in più. Non che gli altri non lo meritano, però quello un paio di giorni in più. Ci ho mai pensato? È una scelta molto difficile. Ma nemmeno succede alla fine del mondo. Cioè uno dice meglio Venezia che Roma o Roma che Venezia. A me per esempio piace Torino che è la mia città, mi piace Moncaglieri che è la mia piccola cittadina, Milano per esempio. Torino era la capitale d'Italia se non era inizialmente. Lo so, però l'Italia è fatta di talmente tante cose che è difficile. Quando sono in Veneto e vedo Venezia, le ville venete, città come Padova dove non so dalla Cappelli di Scrovegni all'università, le cose di Gio Ponte. Cioè tutto è in Italia. È bello, se volevo non si è spidenciato. La gastronomia anche cambia. Tutti ci invidiano anche il nostro cibo. In Emilia è così, in Veneto è così. In Piemonte è così. L'Italia è tutta bella per Napoli. C'è una nostalgia perenne di un altro posto. Io sono d'accordo, faccio le domande così. Adesso abbiamo questi treni meravigliosi, questi treni veloci. Per cui in treno in poche ore si va dappertutto. In Giappone vanno via 400 all'ora, dobbiamo ancora raggiungere quella velocità. Abbiamo premura? Ma insomma oggi la vita se non hai premura... Solo due o tre ore andare a Roma... Oggi nella vita se non fai le cose... Vabbè, allora speriamo di... La vita qui nel nostro paese devi lottare tutti i giorni. Senta, lei vive a Londra. La Brexit come la stanno vivendo i londinesi? Ma è un bel pasticcio, perché di nuovo è una spaccatura di un paese. I referendum creano dei problemi di questo genere molto gravi. Una piccola minoranza, il destino di un paese, di una nazione, di un regno cambia. Ecco, per esempio lì ci sono molti connazionali che sono preoccupati di questa Brexit. Perché hanno paura di ritornare e di perdere il lavoro. Lo trovo che l'Inghilterra era importante... Lei parlava della Germania, no? Certo. Beh, insomma avere anche l'Inghilterra... L'Inghilterra, la Francia, l'Italia è un equilibrio. Andando via l'Inghilterra diventa meno forte questo equilibrio per l'Europa. Certo. Che poi gli inglesi siano un'isola e che per tradizione siano così indipendenti è ovvio. Però avevano tutto, avevano la loro moneta. Non hanno la moneta unica come gli altri paesi europei. Avevano molti vantaggi. Erano sicuri che il referendum passasse senza il Brexit, no? Di vince, che rimanevano... E invece non è andata così. E quindi come vede il futuro? Visto che ci vive il futuro lì a Londra, come lo vede? Si metteranno d'accordo con l'Europa? Io penso che troveranno un compromesso. Anche perché gli inglesi sono dei mercanti di natura, no? Dei navigatori, dei mercanti. Quindi troveranno una soluzione probabilmente di convenienza. Cioè ci sarà forse il Brexit ma addolcito. Insomma non così... Cioè se escono con il no Brexit per l'Inghilterra è un disastro. Certo. Economico. È un problema... Senta, prima parlavamo degli ebrei. Cosa pensa di tutti quegli esseri umani che arrivano da di là dell'oceano, da di là del Mediterraneo e che arrivano come arrivano, che vengono un attimino cacciati, trattati male, non trattati bene? Penso che sia terribile. E penso che è anche terribile il loro destino perché i loro paesi non li garantiscono. Cioè penso che una soluzione importante sarebbe che i loro paesi crescessero, che il mondo li facesse crescere in modo che non fossero obbligati a partire come dei disperati. Il mondo li fa crescere, Erika, secondo lei? Non lo so. Ci sono molte... Questa cosa è una cosa che ci fa male. Ci sono molte ingiustizie. Pensiamo alla Siria, a quello che è un paese distrutto da una guerra civile, da gente che parte, che non sa dove va, che deve ricostruirsi un destino, che abbandona tutto. E questo fa molto male. E non c'è un rimedio, secondo lei? Oggi c'è una battaglia che non arriva qui in Italia. Secondo me dovrebbero... Sicuramente, molto seriamente, così come per il clima o altre cose fondamentali, i leader dei paesi occidentali dovrebbero veramente lavorare su questo, su come aiutare questo inevitabile fenomeno. Secondo lei è una cosa che... Certamente ributtarli in mare non è la soluzione migliore. Indubbiamente, santo in Dio, credo sia... Meglio lasciarli là e trovare a loro da fare o farli venire qui e integrarli. Senta, il mondo, ovviamente perché è così, perché la modernazione e tante altre cose lo farà così, cambia che una volta gli europei andavano nei paesi dell'est per fare lavoro, poi sono andati ovviamente in Cina, adesso anche in Cina prima si accontentavano di un pugno di riso, tra poco vogliono anche loro la macchina grande, quindi si andrà anche nei paesi africani e da quelle terre lì dove la mano d'opera ancora costa poco. Quanto durerà, secondo lei, questo ciclo? E avrà un esaurimento? E quando si esaurirà questo ciclo? Cosa succederà? Che tutti stanno bene? Ci vorranno degli equilibri diversi? Secondo lei, si è fatto un ragionamento di questo tipo per il mondo intero? Lei vuole sempre chiedere a me la palla di cristallo, io non ce l'ho messo il razzismo, però io penso questo. Ci sono molte cose che non sappiamo, cioè dove ci porta la tecnologia, dove ci porta l'intelligenza artificiale, dove ci porta il DNA, dove ci porta le automobili che saranno guidate da sole. Cioè, com'era il nostro mondo senza il telefonino, dove oggi facciamo tutto, no? Scriviamo, leggiamo, comunichiamo, lavoriamo, no? Ci sembra impossibile di vivere senza il telefonino oggi, no? Prima non c'era. Cosa succederà nei prossimi 20, 30, 50 anni? Difficile saperlo. E come il mondo si riorganizzerà intorno. E per quello che la letteratura, Anita, i libri, le storie d'amore, le riflessioni sui grandi temi che riguardano l'uomo, l'anima per esempio, no? Sono cose che non moriranno. Perché non credo che la tecnologia possa sostituire quella che chiamiamo l'anima. E che se vuole, io penso che... Lei mi chiedeva... Sì, chi fa questo è privilegiato. Cioè, non sappiamo cos'è l'anima. Non privilegiato. Ma quello che noi pensiamo essere l'anima, no? Si ripercuote in che cosa è che ti dà quel senso. La musica, i compositori, la poesia, le poesie, l'arte. Tutte queste cose sono l'espressione di un talento che forse è l'anima, no? E secondo me questo non morirà. Perché le poesie, il racconto orale, disegnare dentro le caverne è una cosa che esiste con una necessità intima dell'uomo. Ma a me le piaceva anche fare qualche quadro, pitturare qualche quadro. Perché vedo che mentre parla anche disegna, le piaceva anche a scrivere, che lo fa molto bene, le sarebbe più... Sì, ma è un mestiere alla volta. Uno alla volta, sì. Io scrivo, ma mi esprimo così. Però penso che questa cosa non morirà. E che il futuro in fondo è la poesia. Perché la tecnologia non sappiamo dove va. Sono d'accordo con lei. Allora non faremo più certi lavori, li faranno i robot. Tutta la struttura sociale, economica, cambierà probabilmente. L'arte no. L'arte non crede. Sono d'accordo con lei. Siete, quanto impiega a scrivere un libro? Quanto ci impiega? Una curiosità così. Tutti i libri che ha scritto c'è stato un tempo minimo, un tempo massimo. È una curiosità che va al di là. Ma dipende, perché i libri hanno due fasi, no? La prima stesura. Cioè dipende dallo scrittore. Ci sono degli scrittori che devono scrivere sempre la pagina definitiva e poi l'altra pagina definitiva. Io scrivo tutto il libro. Ah, lo scrive tutto. Poi quando il libro è più o meno finito, lo riscrivo magari tre, quattro, cinque, sei volte. È mai stato scontento di quello che ha scritto? Vorrei sempre scrivere meglio. Quando mi chiedono qual è il suo libro preferito, dico quello che non ho ancora scritto. No, no, è vero, no, ma dicevo magari lei fa questo capolavoro, scrive e poi dice, però non è come avrei voluto, come l'ho pensato, ma è venuto di certo. Però non li pubblico. Beh, cioè, non li pubblicano. Cioè se il libro, quando correggo, ricorreggo, le bozze, eccetera, se non sento che c'è... Devo proprio sentirlo quel libro. No, devo essere contento di... Lì non potevo fare meglio. Poi evidentemente avrei potuto avere più talento a approfondire. Però non bisogna stare troppo a sentire, no? Perché ho avuto questa prova in un libro di racconti, in la mia raccolta di racconti. È come la politica. Dice, ma racconti brevi sono molto meglio quei racconti lunghi, non un po' più lunghi. Poi d'altra parte dice, quei racconti brevi, fulminei, sono fantastici, no? Cioè, ci sono sempre due versioni. Dice, dovevi approfondire di più questa storia perché ci hai lasciato con la voglia di saperne di più. Oppure uno dice, bello questa cosa elusiva di non dare troppe informazioni, no? Quindi non devi pensare troppo a quello che... Certo. Però devi pensare ai lettori. Io ci penso molto. In che senso? Nel senso che, e spero che in Anitta, per esempio, in mio ultimo romanzo sono riuscito a farlo, è di spiegare in parole semplici delle cose complicate. Che non è facile. È difficilissimo. Di non fare fumo. Non mi piace la scrittura con molti aggettivi, molte cose. Mi piace una scrittura che tutti possono capire. Quando uno mi dice, sa, il suo libro, certo, poteva essere più lungo, però l'ho letto in un viaggio in treno. Bello, perché... Quello che voglio. Sì, perché poi diventano... Cominciano... Il parlare, mi dicevano, quando tu parli, parli, parli tanto. Diventa rumore. E il rumore, come tutte le cose, puoi dare... No, ma poi il libro, perché li faccio anche... Cerco che siano piccoli. Perché un libro piccolo lo puoi leggere in una o due botte, no? Invece quel famoso libro che tieni lì, ne leggi tre pagine, poi ti addormenti, dura sei mesi. Non ti ricordi, devi tornare in... È vero, è vero. No, invece il libro deve darti qualcosa subito. Subito. Secondo me. Sì, no, no, ma sicuramente mi trova assolutamente d'accordo. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima piccola parte di trasmissione dove le chiedo anche... Molto bene. ...di anche di tutto quello che ha fatto nella sua vita. A tra poco. Molto bene. . . Autore dei sovrapposti